Ciao ragazzi, buongiorno, come state oggi? Allora, chi si ricorda che giorno è oggi? Oggi è venerdì 15 maggio. Allora, visto che siamo in settimana di esami e quindi dobbiamo solo fare ripassi, eccetera, e non possiamo fare compiti, vi mando il link di un video di ripasso, un video molto carino, dovete guardarlo perché è molto bellino, e parla dei verbi, è un ripasso sui verbi. Per favore guardatelo e poi ci rivediamo lunedì con la nostra prossima lezione di lunedì. Ok? Ciao ragazzi, buon fine settimana. Ciao, buon weekend.